Siamo quelli di prima, ma con uno showroom tutto nuovo. Da sempre ci lasciamo guidare dalla passione per la libertà, la stessa che condividiamo con i nostri clienti. Per questo siamo lieti di annunciarti l'apertura della nostra nuova sede. Uno showroom dotato di uno spazio più ampio e funzionale per ammirare i modelli della gamma BMW Motorrad e di un centro service che utilizza tecnologia all'avanguardia e solo ricambi originali BMW Motorrad per offrirti un'assistenza impeccabile. Vieni a trovarci nel nuovo spazio in via Antiniana 3 a Pozzuoli, Napoli. Potrai inoltre scoprire tutte le novità BMW Auto e Mini della concessionaria M-Car.